mo' l'bombardamo oh ste oh ste, andiamo a fare scherzi beh, sto pensando a cosa? ma che cosa stai pensando, scusami? beh, non so se il nano riesce a portarmi ma qual è il nano? ma che nano? cazzo di oddio è quello del forziere ma regge, regà ma che ubriaco è ubriachissimo ma nascita no, è bello è bello è una pompa oh, che facciamo oggi? oh, che giornano non doveva finire così ma torniamo quindi andiamo a fare qualche scherzi potrai che ti rimane? che ti rimane? è il ccd a cero, sì è il ccd a cero, sì è il ccd a cero è bello ben tornato oh, fai sta a fare un po' fare un nano e visto che ci stiamo annoiando andiamo a fare due scherzi assurdi, già che sta a dormire ma tu non stavi stanco molto dovevi dormire perché non ce la lascivi a vietare abbiamo deciso di fare un altro video ma tu cerchi sempre di creare il modo per avere il video del giorno dopo pulando gli altri che stai facendo? ha deciso il nano è il nano che mi sta portando le caccia no, 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 basta, basta, basta che vuoi fare? andiamo sono del nano sono del bai si aspetta, preparati per la battaglia sta dormendo su di asci infatti non sapevo che voleva tornare da solo allora, stiamo a scampare di quella battaglia io c'ho il nano, noi c'ho il mamma e il cappello e te c'ho il pisello questo è un po' il cazzo, porca pittà no, non ti fermi no, non ti fermi difendimi il nano allora, come? ma ti fermi il nano? dai, che male, m***a, lo dico basta no, no è un po' come andata in lei dai, basta, è uscito da fare la mia è il piatto rotante no, 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 che male andatemi fuori dai coglioni, che male si i miei regali aspetta, aspetta, aspetta no, 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 sono la voce sono i regali che sono, che sono i regali i miei regali no, non ci sono i regali sono i regali sono i regali però comunque te lo dico, a Torino io farò solo un video o una completion di io che cerco di fare attenzione l'elettico, che tu ne scalci tutto non dico, è tutto ah, il francesco tu bene a posto a me tanto Poseidone qua, che sennò su, su, cazzi no, no satisane, satisane 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 ho, c***o ho, c***o ho, c***o fico la bella pionda vieni qua la riccia di Doro ti chiamano ho, tu dici un capriccio Oh 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 Dentro la zucca Andiamo a noto a sorridi Vai Andiamo a vedere la frutta finita La frutta Che cazzo mi sa Che cazzo mi sa La frutta La cazzo mi sa La controlla qua Le palline Le palline Le palline Ste Ma c'è Gervasio che mi arregge Io devo tappare il naso Ste ti ricordi che non abbiamo le palline Carose Ho preso l'arsenale Andiamo Facciamo un bombardamento Assurri Mentre dorme Gervasio muoce Arziamo Io sto tappando il naso Che puzza Sto cagando Ma cazzo ma Qualt'è ci basta raga No aspetta La mia camera Questa Questi cazzi C'è stato di lui Mol bombardiamo Guadame Io entro dentro Attento a ciclo Lì So La mia camera Ma cazzo ma Bombardavolo! Bombardalo! Bombardalo in fame! E' tanto e' cieco! Vai tra quanta cosa dall'azzo! Cazzo era il Predator? Oh oh no 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 Oh ragazzi stava prendendo la brutta Ma la어제 il Germano non si sente bene Stai assolito! Ragazzi! Ragazzi... Cazzo, Sasha, no no, no ritirata! Ti sei ripreso bella, sei stato forte zii! Cosa volete? Non portate! No, no! ma ma bellissimo anche io la macchina mia la macchina mia la macchina mia occhio raga ahahah ahahah ragazzi voglio realizzare il sogno di Gerovasio prima che finisca la vita quelli sono i miei, quella è la mamma, il papà e il figlio ah ah no 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 andiamo in giro per il cozzurrito ci vuoi vero si si stai per lo scovare un cozzurrito che è scelto che te lo scovaste ma che è scomolato ok aia tu dove e stai a farsi il mio letto ah ragazzi questo video è terminato non verrà mai caricato sul canale sarà divertente registrarlo perché prendete spiagli se è piaciuto facciamo attacco basta no 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 c'è Gervasio non si sente bene eh vabbè è arrivata la sua ora povero Gervasio morto un step se ne fa un altro eh no me scopo me scopo il morto e Gervasio e dagli del necrofidio basta Basta Sasha basta 1 2 3 hai vinto ragazzi questo video è ufficialmente terminato non so che cosa vedrete non so se lo vedrete non so che cosa abbiamo registrato non so da chi è partita questa idea speriamo di se è piaciuto se è piaciuto se è piaciuto se è piaciuto sempre tutto bene mamma sta così ti te te tu